Ci troviamo a Catani, in una zona in realtà molto marginale, tra confini tra Vaccarizzo e la zona industriale. Per essere precisi ci troviamo in Contrada, Torre Allegra, Fondo 1. Raccogliamo tra qualche istante le dichiarazioni di alcuni abitanti della zona, perché qui la strada è particolarmente dissestata. Ci sono bambini, ci sono molte persone, molti residenti che abitano in questa zona e tenteremo di comprendere insieme agli abitanti qual è il problema di questa strada. Sembra che molti si rimpallino la manutenzione di questa strada, un po' la provincia, un po' l'ANAS. Appunto dovremmo cercare di indagare sulla questione. È importante capire intanto cosa lamentano i cittadini di questa zona. Affrontiamo la questione di questa strada con la signora Cosentina che abita qui ed è una residente della zona. Signora, qual è il problema di questa zona? Il problema di questa zona è la strada. Siamo abbandonati qua. Il comune di Catania, tipo che noi non esistiamo in questa zona, la spazzatura la paghiamo, le tasse le paghiamo. Però non è anche giù. I bambini devono andare a scuola e c'è una strada disastrata. Signora, avete provato a fare delle denunce, a fare dei... Sì, sì. Vi sentite un po' abitanti, cittadini serie B? Ecco, ha ragione. Veramente così ci sentiamo. Cittadini serie B. Nella suddetta strada abbiamo trovato fino anche un palo che vedete qui alle mie spalle, che è proprio posizionato in mezzo alla strada. Se considerate che qui la zona è assolutamente senza nessuna illuminazione, è facile che una macchina possa andare a impattare con grandissima tranquillità contro questo palo. Analizzeremo ora tra un attimo anche la situazione delle buche e misureremo con un metro proprio quanta è l'altezza di ogni singola buca. Mi trovo, come potete vedere, qui all'interno di una di queste buche, che sono miriade in questa strada. Peraltro adesso vedrete proprio passare un camion, come è difficile muoversi in questo ambiente. Sono proprio all'interno di questa voragine, che circa siamo a 20 centimetri di profondità, che per delle macchine vuol dire distruggersi assolutamente. Peraltro qui alle mie spalle c'è un capannone confiscato dalla mafia, che è completamente, interamente riproperto da Amianto, da Eternit. E quindi qui la zona è anche pericolosa, anche solo starci, anche solo respirarci.